Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento della Promozione della Salute, Vito Montanaro, ha informato che nella giornata del 22 marzo in Puglia sono stati effettuati 573 test per l'infezione Covid-19 coronavirus e sono stati risultati positivi 111 casi, così suddivisi nelle province del nostro territorio, 37 in quella di Bari, 17 nella Bat, 6 a Brindisi, 22 a Foggia, 17 a Lecce e 6 nella provincia di Taranto. Uno è stato attribuito a un residente fuori regione, 5 per i quali invece è in corso l'attribuzione nella relativa provincia di provenienza. Sono stati purtroppo registrati due decessi, uno nel territorio salentino, invece l'altro è in quello della provincia di Foggia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 6.160 tamponi per un totale di casi positivi Covid-19 in Puglia di 786, dove la maggiore incidenza sia nella provincia di Bari. Un territorio che comunque sta rispondendo bene con dei dati che sembrano essere comunque in linea con quello che è il dato nazionale, ma purtroppo ancora in aumento con una progressione costante nei giorni.